bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono kuder e oggi ragazzi parliamo dell'arrivo oramai imminente mancano veramente pochissimi mesi di call of duty black ops ops perché ne parliamo così ragazzi perché call of duty black ops si sta dimostrando veramente all'altezza dei tempi che corrono in questo momento tra gli sparatutto gli fps in generale la sorpresa più grande ovviamente è stata la mossa di activision che con un colpo secco ha deciso di modificare completamente le radici del gioco sappiamo ovviamente che call of duty è stato fondato su tre pilastri fondamentali che sono la storia il multigiocatore e la modalità zombie beh ragazzi ovviamente call of duty non poteva non seguire la moda del ben più rinomato in questo momento fortnite ovviamente lo conosciamo tutti ci giochiamo tutti tutti i giorni che ha consacrato definitivamente il la modalità battle royale nei videogiochi rendendola un fenomeno di massa dico consacrato definitivamente perché la modalità battle royale se ve lo ricordate bene arriva nei nostri schermi tra virgolette con player unknown battlegrounds che è un gioco per chi non lo conoscesse sempre uno sparatutto però con elementi molto più realistici di fortnite con la possibilità di guidare i veicoli con armi ed elementi appunto che esistono sul serio nella vita reale e che è più un fenomeno da twitch diciamo che da youtube noi abbiamo provato a giocarci assieme però non ha riscontrato così tanto successo ciò nonostante è un capolavoro dall'inizio alla fine ovviamente ragazzi sappiamo già la data di uscita di call of duty black ops 4 che sarà il 12 ottobre di quest'anno uscirà ovviamente contemporaneamente su pc xbox one e playstation 4 la cosa che è sulla punta della lingua di tutti è che ragazzi questo call of duty introdurrà e qui è ufficiale perché appena stato confermato la modalità battle royale praticamente è un po particolare lo schema è lo stesso troveremo un ammasso di giocatori che si sparaventano tutti sparaventano in una mappa per chillarsi a vicenda e ovviamente quello che rimane in vita per ultimo è il vincitore la cosa che ovviamente lo caratterizzerà da fortnite ma che lo avvicinerà di più a battlegrounds è la possibilità di guidare dei veicoli e le abilità uniche che ogni giocatore potrà avere questo ragazzi ci riallaccia un pochettino a un discorso di gioco di squadra barra creazione delle condizioni necessarie per poter spingere nuovamente call of duty nell'ambito degli esports mondiali perché come vi dicevo loro comunque activision punta tantissimo il gioco di squadra e dà la possibilità appunto ad ogni personaggio di avere delle abilità uniche questi personaggi si chiameranno specialisti questo vuol dire che quando andremo a giocare in team quando giocheremo di squadra bisognerà bilanciare bene tutte le abilità per poter creare appunto un team vincente ci garantiscono comunque ragazzi che lo stile di questo gioco sarà sempre comunque bello veloce bello frenetico non adatto a chi non ha riflessi pronti quindi io non ci posso giocare porca miseria no è molto competitivo assolutamente che punta tantissimo a rimanere nelle top dei videogiochi più giocati in assoluto avremo anche l'inserimento per i giocatori da pc della nuova modalità battle.net che vedrà activision creare questa piattaforma che cercherà di riunire le già vastissime comunità comunità di destiny overwatch e ovviamente call of duty ma ragazzi arriviamo alla nota dolente per i veri no per i veri fan per i vecchi fan di call of duty ragazzi questo capitolo sarà il primo di una sa di una lunga saga già precedentemente vista ovviamente senza la modalità storia hanno completamente deciso di eliminare questa modalità perché si sono resi conto che la percentuale di persone che riusciva ad arrivare alla fine quindi i titoli di coda a completare il gioco era veramente minima e si sono resi conto di quanto in realtà c'è del business dietro alle modalità in questo momento per dire battle royale capaci di generare veramente introiti milionari sia alle case produttrici che agli streamer ai giocatori che portano che spiegano che che fanno vedere un pochettino come funziona insomma il futuro è ovviamente momentaneamente il battle royale per chiudere ragazzi ci sarà sempre comunque un altro elemento come vi dicevo già all'inizio del video caratteristico di call of duty che sarà la modalità zombie vedremo addirittura tre avventure disponibili che ci vedranno catapultate nelle catapultati catapultati nelle arene tra gladiatori fino ad arrivare addirittura ad un viaggio sul titanic questo ragazzi è sicuramente un altro punto fondamentale che activision non poteva assolutamente eliminare beh ragazzi il gioco più venduto del mondo lo sapete è call of duty e tutti compreso me ci stiamo aspettando che sarà veramente una perla rara e che riuscirà a combinare finalmente tutte le modalità vecchie e nuove in un unico capitolo capace di stregare e perché no magari sostituire fortnite da ottobre ovviamente le mode sono passeggeri ragazzi quindi sicuramente fortnite avrà tanto tanto seguito ancora ma la concorrenza è lì in agguato noi ovviamente saremo qui ad aspettare e a darvi sempre informazioni su tutto quello che riguarderà anche questo capolavoro beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video spero di avervi schiarito un po le idee anche sulla nuova perla di activision vi ricordo un bel like se vi sta piacendo se vi è piaciuto il video iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao